Buongiorno a tutti e bentrovati nel mio canale. Quest'oggi voglio proporvi la ricetta di un gelato che ho preparato qualche giorno fa. Si tratta del gelato al caramello. In descrizione trovate gli ingredienti. Per prima cosa prepariamo il caramello per il gelato e per la decorazione finale. Mettere lo zucchero in un pentolino e quindi sul fornello piccolo ma a fiamma molto bassa. Non mescolare ma ogni tanto muovere il pentolino. Lo zucchero all'inizio cristallizzerà ma poi poco alla volta tornerà al liquido. Se tendesse a scurirsi troppo togliere il pentolino e rimetterlo su fuoco e continuate così finché si sarà sciolto. Poco prima che lo zucchero si sia sciolto de tutto scaldare la panna in un tegamino e prima che bolla spegnere e tenere da parte. Quando lo zucchero sciolto avrà assunto un colore ambrato versare da lì la panna calda. Rimettere su fiamma bassa e appena è composto smetterà di bollire aggiungere il burro. Mescolare e toglierlo da fuoco. Dividerlo in due ciotole in modo che in una vi sia solo la parte per la decorazione finale. Fare raffreddare a temperatura ambiente. In una ciotola montate la panna fredda di frigo a media velocità finché sarà piuttosto ferma ma non troppo montata. Unire il latte condensato della dose maggiore del caramello continuando sempre a montare. Versare il composto nella gelatiera e farlo manticare fino a quando avrà raggiunto la giusta consistenza e densità. Riporre il gelato in frizzer per un paio d'ore e metterlo in frigo mezz'ora prima di servire. Mettere il gelato quindi nelle coppette, decorare con il caramello e gustarlo. Vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi sui social. E come dico alla fine di ogni video, ciao e una buona giornata a tutti! Ciao!